Necessari maggiori sforzi per migliorare la qualità della vita dei cittadini europei. A Graz, in Austria, i ministri dei trasporti e la Commissione europea insistono sull'attuare rapidamente misure di mobilità pulita per raggiungere gli obiettivi climatici europei per il 2030. La dichiarazione di Graz sarà presentata e valutata nei prossimi vertici europei.